Inoltre . . . . . . . ahhh 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 Poi posso sciarci del mondo che vogliono se lo voglia. Per merda di gente siamo diventati. In due? Mignolo col prof. Mignolo col prof. Stavo pensando anch'io. Io sono mignolo ovviamente. Anch'io. Ma il mio mignolo è andato molto lontano. E cominciare questo ballo, signorina? Molto piacere. Oh, finalmente. Allora finiamo questa cosa. Dai. Andiamo una botta via. Una botta via. Fegato. Fegato. Perché parlare di che cosa? Io non bevo quei bamboni. Pessi. L'amore. Nanno? Perchè. In un esempio. Nanno? Pessi. Pessi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.